Alla 59esima edizione del Festival di Sanremo è stata introdotta una nuova sezione online e tra i protagonisti un gruppo giovane, i Seconda Vera. Vogliamo chiedere innanzitutto cosa ne pensano di questa iniziativa? È stata un'esperienza fantastica proprio che ci ha proiettato qui al Festival una nuova avventura in compagnia di tutti quanti e del nostro grande amico produttore Pio del Duga che ci sta pian piano aprendo tante piccole porte. Come nasce il nome Seconda Vera? Seconda Vera nasce da Primavera a Seconda Vera, la stagione che non c'era. Sanremo è stato il trampolino di lancio per tanti artisti della musica italiana qual è il vostro modello a cui vi ispirate? I modelli ce ne sono tanti in particolare anche gruppi o solisti che sentivamo da quando siamo ragazzi e da quando abbiamo iniziato a suonare in particolar modo ognuno di noi si ispira a un proprio modello per me, per quanto mi riguarda, io sono un grande fan di Queen poi abbiamo qui il nostro Roberto che è un grande accanito sostenitore di Roberto? Malgrado l'età di Albano Carrisi E dalla passeggiata dell'imperatrice di Sanremo si ammira la splendida rivera Sanremese e sarebbe bello, titolo del brano dei Seconda Vera, se ce lo facessero ascoltare proprio da qui Passaggiare sui navi La mia sigaretta in bocca E non penso più ai miei sei Guardo avanti e ci si vede Però ancora non so E se so Io fingo di no, 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 no Sarebbe bello Averti qui con me Ma in fondo è questo Che non c'è Sarebbe bello Averti qui accanto a me E un sorriso Dirsi che Che il sogno continua Sarebbe bello Averti qui con me Ma in fondo è questo Che non c'è Sarebbe bello Averti qui accanto a me E in un sorriso Dirsi che Il sogno continua